Noi, idiota, sei un vero idiota, io? Adesso prendo questo, io andrò sopra, guarda, sopra, mi hanno fatto il pezzo di nuovo, qualcuno per favore si arrampichi, tu sei chi trepio, idiota, prendi uno con la pistola, sotto il camminatore, c'è un mirino, quindi, no, prendi il camminatore e spostalo, ok, lì va, montaggio tutto, fatto che molti l'altro nel porto, no, non ce la faremo, sapere, ora ci vorrà un droide, mi sa, R22, conoscendo il film, ecco il film, tu pensi che adesso si è finito, adesso arriviamo alla base del mito, e adesso invece no, c'è tutta la parte dentro la base del mito, andate, un Chenin, geto, andate, andate, ho sentito, .. è, mi vedo perché, mi vado a te, mi fai accendendo, vieni qua, come, non sono uno, vieni, guarda, mi, non mi interessa, vieni, serve il casco quello non serve quello è ottimo non pianghi in altre cose mi interessa del casco poi lo prenderei quando servirà anche a soltanto un casco sono lei scusa tranquillo, fermo, fermo non ti sparo è worka guarda mamma mia uno ne pensa e cintone fa bellissima bellissima no, all'altro lato questo lì vuoi uccidere uccidere non serve mi serve lì adesso vedi che mi serve sì, ma è più veloce l'altro l'altro in un'altra è andata vedi, guarda via adesso è finito è molto yes stenti dai forza bellissima è un uomo bellissima ho il morto un centro di casco oh, perché l'ha schivato? neanche Adele c'era già un casco oh diota ah no, tu si rende duro diota stiamo annoiando i nostri telespettatori guardi, lo sai? ah, una beccia eeeh ciò è grave guarda tutto rispetto guarda tutto rispetto guarda 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 salve siamo noi forse era meglio non dire che ne avevamo noi perché se no non avreste visto questo video eravamo oh oh noi non siamo non dire che tu cosa dici brutto mosaico io sono messicano no, tu sei mosaico eh ti ricordo il mio personaggio sono messo si guarda non ho un braccio tre fortissimi si lui ha creato un personaggio che si chiama sono messicano tutto attaccato cioè l'intelligenza di Crovara mi stupisce amaramente oh yeah no cavolo dai facciamo due livelli in tre minuti si vai ho la grande no 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 aspetta r2 c2 eh la cina c guarda magista no cosa fai che è così lo schermo ti odio tu stai giù e seguimi da sotto ora ora se mi tubiamo non c'è mamma mia come sei un di tappato non si capito aspetta quello il coso lì non mi servono troppo amore ma il satis il 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 4 torre più veloce della voce ora azione vinci con subito vai l'altra forza subito andate con le bombe e ora di qua l'ho amassato ma all'altro ma l'ho amassato ma all'altro ma si dice si dice si dice oddio colpito Oh, poverino! Ma spaventato! Cioè, non può morire così! No, ma è poverino! Sono le 5.35! La festa di Dio! Oh, curi Dio! Vi avviso, gentili spettatori, siete in diretta a un ritardo clamoroso! Nel senso che noi, 5 minuti fa, dovevamo essere in un'altra casa. Siamo qua a filmare Darth Feiner. Che cavolo faccio io! Ah, quella è una pentola! Ti sei ricordato delle cose che non ti dovevi ricordare. Per esempio, lunedì in terrode. Geometria. Nel senso che... Cioè, cavolo, da chi? Ah, studierò nuovamente! Nel senso, cioè, stiamo mettendo su YouTube un'umiliazione tale che... Tu me l'hai detto! No, ho detto che sono le 5.35 e tu hai detto... Oh, bebe! Guardate, Darth Feiner, come si vede male perché è buio! Beh, ora che è fulminato, c'è più luce! Chi è questo, l'inominato? L'imperatore, non l'inanimato! Comunque io sono... Luke! Voglio essere dal Fener! No, scusi! No, vai, tranquilli! No, vai, tranquilli! No, vai, tranquilli! Segui me! Aspetta, stavo... No, non mi interessa! Mi dispiace, ma devo essere crudello! Sti così qua sono tremendi! Cioè, o li confondi e poi li uccidi, se no non ce la fai! Ok, corre! Seguimi! Yeah! Monta quello! No, lo monto io! Tanto tu, basta quello! Monta quello! Muda la forza, mettilo lì! Spostati! Ok! Ventolin, ventolarski! Ecco, abbiamo appena passato l'ora e quindi non siamo riusciti a fare quello che dovevamo! Oh, no! Ha creato la disco! No, sì! Oh, se la faccio! Togliti! Eliminati! Velocemente anche! Non ti ha fatto! Eh no, e se salto lì, guarda! Spossa! Chi sei già? Vai! No, ma sei un milano! Dove sei? Vai, vai! Uccidilo, uccidilo! Ora mi fa la scossa! Uccidilo! Perfetto! Scusa! Ho ucciso lui! Ottimo! Ci sono 50 secondi! No, ci sono quelli lì! Eh... Ok! Scossa? No! No, uccidili! Intanto ti inseguono ovunque! Pozio Pilato! Scusa, ma prima, poi devo fare una entry in action! Cos'è? No! No! Mi hai colpito! Tanto molto! No! No! Tieni premuto! Tieni premuto! Porca miseria! Tieni premuto! No! Tieni premuto! Penso io tutti ne premuto! Dai, mi sento tutti i suoi! Dai! No! Ah cavolo, non mi sono... Aspetta un attimo eh! Resta lì! No! Fortuni! 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 se dicevo diamine che salto che stai facendo invece no, hai due il totem ha detto che vabbè se l'ha andata abbastanza bene io ho scritto delle cavole a casa dicendo ma non mi hanno buttato giù no, tu sei da fero sei morto comunque nel mio canale cercate The End of Darth Fener in cui ho doppiato questa scena Lego con la voce dei film ve lo consiglio come sei brutto beh nella versione vecchia è ancora più brutto del Lego oh no ho un cattivissimo presentimento abbiamo sei minuti di registrazione prima che la schedina faccia pluff pluff quindi velocissimo veramente ma si quanti livelli mancano uno ma devi seguire alla lettera subito 5 minuti mancano come faremo forza 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 no perdere tempo bb 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 dove bb l'altro ti ammazzo aspetta teoricamente abbiamo due minuti e mezzo ok ci sono anche i video akbar il mitico monosco 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 siluri infiniti ok ma si muove donatini mi sempre premuto quadrato si fatto ok adesso siluri lasciali a me che io almeno che sono i tempi sui giusti ok è una nave è affondata queste navi devono affondare ecco oh ecco non è una nave no non serve bravo lasciala preso no fai b no me l'hanno fregato ok è un'altra affondata no ma si io non muoiono mai quello là quello là quello là che c'è anzi loro fai b ok eccolo uno dove andò ecco ora fai b dove andiamo a sinistra a signor prendi ecco ecco l'ho visto preso anche io no grande l'hai preso vieni verso di me non sprecare assolutamente quel siluro che poi forse abbiamo finito già la prima parte vai in avanti ok ah no li abbiamo già distratti tutti grande grande cosa ce ne ho messo un sacco no è lui che ci avrà dei difetti allora vi avviso la gentile filetela che molto probabilmente la fine di questo livello non sarà in super storia no è un letto tenuto vi facciamo la storia poi la prossima volta adesso io continuo quindi ricordiamoci ci vediamo direttamente qua dall'inizio di questa galleria perché la mia stendina finisce e non ci abbiamo più tempo la prossima volta noi che ci vediamo facciamo la storia di questo livello però sembrerà sembrerà super storico comunque abbiamo fatto i soldi ma non abbiamo fatto il tempo addio zero minuti capito che fa nesso nooo ci si dure noi siamo non si dure ci si dure vieni sicuramente sono dietro no 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 è qua